dei 28.000 presunti profughi, potenziali clandestini che sono sbaccati nel 2016 in Italia. Sapete quanti sono i siriani? Zero. Nemmeno un siriano. E sono gli unici che scappano dalla guerra. Tutti coloro i quali sbarcano, anzi andiamo a prendere, lo ripeto, con le navi della marina militare sulle coste libiche, arrivano tutte dall'Africa subsahariana. Gli unici che hanno diritto all'accoglienza e quindi a fare e a ottenere la protezione internazionale sono gli eritrei. Tant'è che ricordo, sottosegretario, che il famoso piano Juncker di ricollocazioni, i famosi 40.000, 39.000 che dovevano essere ricollocati dall'Italia negli altri paesi europei, dovevano esserne ricollocati 80 al giorno, 1.500 al mese, ne sono stati ricollocati fino ad oggi soltanto 500. Vogliamo ricordare un'altra cosa, scusi, siccome si parla spesso di Schengen, l'accordo di Schengen ha due presupposti. Guardi questo cartello, Molteni, scusi, i principali paesi di provenienza, 43% Siria, 23% Afghanistan, 14% Iraq. In Italia, guardi che non è assolutamente così. 3% Pakistan, 3% Iran e 2% Nigeria. In Italia, guardi che in Italia nel 2016 i siriani sbarcati sono esattamente zero, tant'è che non riusciamo a fare ricollocazione proprio perché non abbiamo siriani da ricollocare. Allora, mi dà nuovamente la fonte di questo numero zero siriani sbarcati in Italia? Qual è la vostra fonte? È il Ministero dell'Interno. Il Ministero dell'Interno? www.interno.it www.interno.it Il sottosegretario Manzini, ci può dire a lui quanti sono i siriani sbarcati in Italia nel 2016? Sì, per nostra maggiore tranquillità per andare a controllare Molteni. Guardi, onorevole, io glieli posso dire senza nessun problema. Il problema però è un altro, il problema è che le... Scusi, i siriani, per questa cortesia, i siriani sbarcati in Italia nel 2016, quanti sono? Sono pochi, sono pochi, su questo non ci piove.